ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che presumo sarà l'ultimo video back to school non sono certa al cento per cento di questa di questa affermazione perché può essere anche che giri ancora dei video a tema back to school devo vedere se appunto mi vengono delle altre idee oppure se magari esce nel frattempo qualcosa riguardante il back to school per cui appunto farò un nuovo video per l'appunto oggi per fortuna volevo già parlare di notability perché appunto ho fatto il video domenica scorsa lunedì scorso scusate su notability e mi è uscito un aggiornamento tipo il giorno dopo o due giorni dopo in ogni caso vi lascio intanto una mini clip con le novità che appunto si vedevano appena si apriva l'app aggiornata e poi le andiamo a vedere un attimo velocemente insieme prima di parlare di ciò che vi voglio mostrare in questo video cioè il bullet journal per studenti allora ho appena aggiornato notability e sicuramente tutte queste funzioni nuove le vedremo nel video anche se è un video sul bullet journal comunque vi voglio parlare delle nuove funzioni perché parliamo sempre di questa app però volevo un attimo mostrarvi l'introduzione visto che l'ho appena aperta e me le mostra così quindi strumenti preferiti c'è una nuova barra con gli strumenti preferiti fantastica guardate si aggiungono con il drag and drop e li avete tutti in una barra tipo not shelf poi si possono aggiungere frecce e curve queste sono le curve mentre vedete le frecce vanno in posizione quindi per gli studenti anche questo ottimo poi sono state aggiunte delle linee punteggiate tratteggiate qui le mostra in un disegno però comunque le potete utilizzare anche per gli appunti ed infine è stato introdotto lo shop di notability quindi quel discorso che vi dicevo l'altra volta viene un po meno perché dicevo che qui non ci sono i template o gli sticker già nell'app ma appunto adesso vedete che hanno aggiunto anche uno shop dove potete acquistare direttamente dei planner da notability allora qui per esempio ho creato una nota già con alcune delle novità del nuovo aggiornamento cioè gli adesivi gli adesivi si aggiungono tramite il più poi vedete che c'è una sezione adesivi qui ci sono quelli recenti e qui c'è il pacchetto base ritorno a scuola che è quello gratuito e ho già scaricato però appunto tutto si trova sul nuovissimo shop di notability in cui appunto avete sia gli elementi già acquistati tra l'altro l'altra volta mi sono dimenticata di parlarvi dei temi perché appunto come tema come vedete dell'applicazione avevo acquistato l'anno scorso due anni fa insomma diverso tempo fa il tema autunno e inverno adesso l'ho applicato perché mi piaceva il riconoscimento della grafia dovrebbe già essere acquistato dal momento che acquistate l'app in ogni caso se queste cose non vi appaiono cliccate su ripristina acquisti abbiamo poi gli adesivi al momento c'è solo il back to school basics pack con 48 adesivi scaricabile gratuitamente e c'è questo pacchetto molto carino e molto invitante di questi adesivi che sono 50 al prezzo di 2 euro e 29 poi si possono acquistare anche degli dei planner o che qui chiama organizzatori c'è già questo in previsione anche se al momento non è ancora disponibile poi si possono acquistare delle funzioni al momento c'è solo il riconoscimento della grafia però come vi dicevo a me lo ha riconosciuto da solo quindi da sola l'applicazione quindi probabilmente chi ha acquistato l'applicazione prima questo è già presente ci sono poi i temi che questi devo essere sincera c'erano anche prima io avevo acquistato appunto solo autunno e inverno perché erano quelli che mi piacevano di più e poi ci sono anche le categorie in evidenza sono state aggiunte appunto delle funzioni anche all'interno dell'app però per questo video non ci serviranno quindi non le vado a vedere adesso magari più avanti le vedremo insieme in un video se vi interessano oggi iniziamo con la creazione del bullet journal per studenti io sto utilizzando il bullet journal da un anno perché l'ho iniziato tipo a ottobre dello scorso anno quindi ormai sono a un anno e mi trovo benissimo veramente alla perfezione con questo metodo così ho deciso appunto di raccogliere un po' appunto da video di altre ragazze già pubblicati per mettere insieme un bullet journal che secondo me sarebbe perfetto per gli studenti in quanto studente io se l'avessi avuto al tempo mi sarebbe risultato veramente comodo perché appunto la bellezza del bullet journal che è un sistema a moduli quindi voi potete decidere quali mattoncini quali moduli inserire nel vostro bullet journal e crearlo in base alle vostre esigenze le agende magari possono avere delle pagine che a voi non servono delle sezioni che a voi non servono e quindi magari può risultarvi un sistema non adatto a voi anche se la comodità dell'agenda è che ha già tutto preimpostato il bullet journal no però appunto la bellezza del bullet journal è crearlo giorno per giorno se non avete tantissimo tempo potete comunque ricorrere a un bullet journal molto semplice come poi sto facendo anche io e il tempo vedrete che vi basterà anche perché si tratta solo di andare a inserire giorno per giorno le cose che dovete fare e gli eventi quindi non è niente di più rispetto a una a un'agenda normale dal punto di vista del tempo la cosa in cui potete perdere un pochino più di tempo è la creazione per esempio della vista mensile però se la fate semplice come è consigliato anche nel libro del bullet journal vi ci vorranno tipo 5 10 minuti al mese cioè nel senso niente di eclatante comunque allora andiamo subito a creare un argomento un oggetto scusate e lo chiamiamo bullet journal così appunto al suo interno andiamo a mettere tutte le pagine che secondo noi possono essere utili per il nostro bullet journal e la comodità è che così vi diventa una sorta di indice anche se non avete un vero e proprio indice come ci può essere su good notes infatti andiamo a creare la prima nota che lui mi crea in automatico a quadretti se volete potete anche decidere di cambiare la carta e di metterla a puntini come richiede diciamo il bullet journal facciamola a puntini così siamo fedeli al metodo potete anche decidere di cambiare il colore della carta quindi tipo potete scegliere una carta gialla una carta azzurrina magari per per non stancare troppo la vista c'è la carta verde questo bel rosa potete anche decidere con questo metodo di fare una sorta di color code questa è bellissima poi c'è anche questa carta un po tipo carta da pacchi c'è la nera se volete avere un bullet journal scuro io non scelgo quasi mai il bianco ottico ma questo bianco un po avorio in modo da non stancare la vista il primo modulo la prima pagina che andrei a creare io in quanto studente nel bullet journal è il future log chiamiamolo in italiano come c'è scritto nel libro il metodo bullet journal cioè diario del futuro in quanto studente appunto il diario del futuro è fondamentale perché vi servirà avere subito a colpo d'occhio più mesi cioè non vi basta avere il mese in corso come richiede il bullet journal nel bullet journal però appunto c'è questa sezione che si chiama diario del futuro che voi andate a creare all'inizio del vostro bullet journal e inserite in modo sintetico ciò che succede in quel mese il bello del diario del futuro è che appunto avete la visione di più mesi in a colpo d'occhio in una sola pagina io quindi andrei a mettere qua settembre ovviamente perché iniziamo da settembre scegliamo proprio un colore nero ecco un'altra cosa che è stata introdotta è la barra dei preferiti per aggiungere uno strumento ai preferiti basta cliccare sul più e vedete che automaticamente vi crea la barra dei preferiti quindi potete andare per esempio a metterci una matita adesso ho messo per l'appunto quella no troppo grossa e per toglierla ok basta cliccare qui sopra si può anche togliere la barra con la con la x come vede come avete visto e poi quaggiù in basso appare questa stellina che serve appunto per ripristinare la barra dei preferiti e con questo la si può anche spostare molto pratica veramente appunto andiamo a scegliere una matita un po più piccola se però io la voglio ancora più fine ok posso aggiungere come vedete più anche più matite con lo stesso colore ma con più spessori ai preferiti fantastico poi per esempio posso andare a inserire un un evidenziatore ai preferiti e vi crea proprio qua giù tutta la barra in modo che l'abbiate sempre a portata di mano guardate che figata la potete mettere dove volete no vabbè questa è veramente io non l'avevo ancora provata è fantastica e andiamo a creare intanto il diario del futuro quindi vado a scrivere no così è troppo grossa assolutamente no più piccolina il bello è che appunto le potete cambiare direttamente anche da qua cioè non importa che tutte le volte le aggiungiate in quaggiù nei preferiti fantastico quindi andiamo a scrivere per esempio settembre io adesso scrivo malissimo aspettate che mi giro un po tanto non importa che sia precisissimo settembre e poi faccio scusate sono abituata a usare lì faccio questa cosa lunedì no così è troppo fine una via di mezzo proviamo questo ok perfetto lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato e domenica e partiamo e così creiamo tutto il mese cosa come funziona adesso praticamente qua andate se volete magari lo dividete anche così almeno è più comodo visivamente qua andate a scriverci i vari eventi quindi per esempio mettiamo che io abbia il test di ammissione il 7 vado troppo grosso proviamo questo ok vado per esempio a evidenziare il 7 modo che mi venga subito all'occhio e qua di lato per esempio scrivo 7 test di ammissione ok se voglio posso anche fare questa cosa qui e il bello guardate cosa ha fatto mi sa che è un po' ci sono un po' di bug e il bello è che appunto potete usare diversi colori di evidenziatore per esempio un colore lo potete usare per gli esami un colore lo potete usare per le cose vostre personali quindi il color code è una cosa che per esempio io utilizzo molto ed è molto è molto comodo qui appunto adesso non ve lo mostro perché altrimenti ci stiamo una giornata intera qui appunto vi scrivete tutti i vari mesi quindi settembre ottobre novembre e dicembre magari potete fare quattro mesi potete fare in base al semestre potete fare come preferite comunque appunto questo sarà il vostro diario del futuro in cui avete a colpo d'occhio tutti gli eventi del futuro poi farei una pagina con le materie qui dovrei cambiare la carta di default così almeno non mi viene sempre la carta a quadretti quindi io farei una pagina esami chiamiamola così esami potete o farla così oppure anche duplicare il diario del futuro se volete però io volevo fare una pagina esami nel senso che di fare proprio un elenco aspettate no questo facciamolo con un grigio che vado sempre a mettere nei preferiti così almeno ce l'ho per fare e poi i preferiti possono ovviamente essere spostati carinissimo no veramente hanno fatto un lavorone secondo me con questo aggiornamento di notability allora quindi mi faccio la mia tabella con qui si potrebbe mettere tipo il codice dell'esame io non sono più tanto pratica è dell'università quindi qualcosa potrebbe sfuggirmi poi tipo il nome del professore il giorno l'orario e l'aula di ricevimento possiamo fare il cfu la data dell'esame e l'ultima casella se l'ho sostenuto quindi nome prof ricevimento ho detto data cfu o il contrario e qui ci posso mettere una una spunta quindi questo per appunto avere un'idea di degli esami dei corsi che dovrò seguire durante quel semestre per esempio posso fare tipo letteratura inglese qui ci posso mettere anche il codice professor non mi ricordo neanche chi avevo di professori ma facciamo tipo smith così un nome a caso ok ok il ricevimento tipo il venerdì alle 13 30 aula 1 per dire la data dell'esame facciamo il gennaio tipo 901 cfu 15 e posso anche decidere di evidenziarlo con un colore che andrà poi a caratterizzare quella materia quindi poi quando io andrò a creare l'esame quindi appunto questo la chiamiamo letteratura inglese per dire dopo vado a scegliere quel colore lì più o meno per quella materia per quell'oggetto e quindi lo ricollego agli esami ho tutto sott'occhio dal punto di vista anche dei colori poi io andrei a creare ma questo perché è una cosa che piace a me quindi non so se magari è una cosa che può servire anche a voi andrei assolutamente a creare la tabella dei voti perché per me era fondamentale anche se magari adesso avete tutto sotto controllo no aspettate che bastano così quindi esame facciamoci la data quindi avete tutto magari adesso già digitale al mio tempo non c'era non c'erano c'era il libretto fisico e basta quindi allora vediamo come ho deciso di fare tipo esame esame data cfu così anche qui avete a sott'occhio tutti i cfu voto e qua se l'avete verbalizzato non so se dovete ancora fare la verbalizzazione ma io non sono più esperta però metto le cose che avrei messo io al tempo poi ovviamente a questo punto arriva l'orario delle lezioni che facciamo sempre sotto forma di tabella quindi qua su mettiamo lunedì ho fatto solo fino a venerdì perché presumo che il sabato e la domenica non ci siano le lezioni mercoledì giovedì e venerdì e qua ci andate a mettere l'orario e qui andate a mettere tutte le materie con le aule quindi per esempio letteratura inglese ci mettete il nome del prof se lo volete sapere e aula 1 per dire quindi appunto qui vi fate tutto l'orario delle lezioni infine cosa farei farei la pianificazione degli esami aspettate che non le ho rinominate queste questa è la tabella voti vedete che così vi si va a creare come se fosse un indice mentre questa è la l'orario delle lezioni orario lezioni perfetto andiamo a creare anche la pianificazione esami anzi pianificazione studio e qui andrei a creare una tabella con tutti i giorni della settimana c'è tutto un mese per dire lunedì martedì mercoledì giovedì no venerdì sabato vabbè facciamo conto che la domenica non studiamo magari eh però vabbè era giusto per mostrarvi e poi lo divido anche per quest'altro verso ora scusate se scrivo malissimo ma sono in una posizione molto scomoda per inquadrare al meglio l'iPad quindi non è che scriva riesca a scrivere benissimo ok quindi facciamo conto che questo sia per esempio settembre l'uno era martedì due tre quattro cinque vi create tutta tutto il vostro mese e poi qui per esempio andate a scrivere capitolo uno studia cioè schemi facciamo ok quindi poi capitolo due schemi eccetera e così vi create tutta la pianificazione dello studio quindi tutto in capitoli potete anche per esempio decidere prima di questa pagina di aggiungerne un'altra aggiungi pagina la potete mettere anche prima di questa per esempio se prima volete suddividervi tutto lo studio in capitoli quindi per dire libro uno cioè sapete che c'è capitolo uno capitolo due poi magari ci potete scrivere anche gli argomenti letteratura dal al al ok quindi qui vi suddividete magari tutti tutto lo studio in capitoli e poi nella pagina successiva andate a creare la tabella in cui inserire appunto tutto questo tutti questi capitoli che avete scritto anche qua di sotto se volete che stiano in un certo ordine o li rinominate per nome e gli mettete un numerino davanti quindi tipo uno diario del futuro due esami avevo fatto così vi rimangono sempre in quella posizione lì non si spostano mai tre l'orario delle lezioni no tre avevo fatto la tabella voti quindi tre facciamo la tabella voti quattro era l'orario delle lezioni cinque la pianificazione studio non c'è rimasto altro quindi questa è un'idea di come imposterei io un bullet journal se dovessi studiare adesso vi assicuro che lo creerei esattamente così cioè mi sono messa proprio nei panni di una studentessa che inizia un anno all'università e che crea il bullet journal che le può servire per l'università o per la scuola cioè magari va benissimo anche per la scuola cambiate semplicemente invece che esami mettete verifiche compiti materie quindi va benissimo appunto sia per l'università che per la scuola perché alla fine sono esattamente le stesse cose appunto a parte questa pagina qui che forse a quel punto potrebbe non servirvi se siete a scuola ma il resto lo farei esattamente uguale anche se fossi al liceo io spero tantissimo che questo video vi sia risultato utile in tal caso lasciatemi per favore un pollicino in su perché per me è un grandissimo supporto se avete dei suggerimenti di cose che implementereste o di video che magari vorreste vedere riguardanti il back to school lasciatemi lì in info box io spero che i prossimi video saranno abbastanza a base apple vera e propria nel senso di uscite di apple che siano hardware o software comunque spero che esca qualcosa a breve di apple in modo da potervelo mostrare nei prossimi video in caso non fosse così andremo avanti con le nostre applicazioni per sprigionare la nostra creatività digitale noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video se non volete perdervelo iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere le notifiche io vi mando un bacione e al prossimo video ciao ciao